monzone monte dei bianchi isolano stazione di monzone monte dei bianchi isolano il treno regionale 69 52 di trenitalia proveniente da piazza al serchio e diretto aula lunigiana delle ore 5 e 25 e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a gragnola fivizzano gassano fivizzano rometta il treno regionale 69 83 di trenitalia proveniente da pisa centrale e diretto aula lunigiana delle ore 7 e 45 e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a gragnola fivizzano gassano fivizzano rometta il treno regionale 69 63 di trenitalia proveniente da aula lunigiana e diretto a pisa centrale delle ore 7 e 45 e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a equi terma minuciano pieve casola piazza al serchio camporgiano poggio caregine vagli villetta san romano castelnuovo di garfagnana fosciandola ceserana castelvecchio pascoli barga gallicano fornaci di barga ghidizzano coreglia bagni di lucca borgo amozzano diecimo pescaglia ponte amoriano san pietro avico lucca ripafratta rigoli san giuliano terme pisa san rossore il treno regionale 11 963 di trenitalia proveniente da aula lunigiana e diretto a via reggio delle ore 16 41 e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a equi terma minuciano pieve casola piazza al serchio camporgiano poggio caregine vagli villetta san romano castelnuovo di garfagnana fosciandola ceserana castelvecchio pascoli barga gallicano fornaci di barga ghidizzano coreglia bagni di lucca borgo amozzano diecimo pescaglia ponte moriano lucca nozzano il treno regionale 69 78 di trenitalia proveniente da lucca e diretto a aula lunigiana delle ore 18 e 37 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma equi termini minuciano i turismi ma non si tratta da uva non si tratta il treno regionale di treno regionale 69 89 di trenitalia proveniente da aula lunigiana e diretto a piazza al serchio delle ore 22 e 0 5 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma equi termi Minuciano Piede Casola